Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video oggi volevo farvi vedere l'altro giorno ho fatto il video del funny charm con il giornalino e la scatola di Maggie Bianca oggi invece vi voglio far vedere quelli che ho acquistato in questo periodo che però devo ancora continuare ad acquistare per finire tutta la collezione allora, ho Bianca con il fiorellino che vi feci vedere nello scorso video quindi inutile che ve lo faccio vedere poi la seconda bustina che ho comprato è uscito Queen con la macchina fotografica e le forbici nella terza bustina mi è uscita Maggie Rock con la scritta Gosi ecco Maggie bellissima e invece nella quarta bustina che ho preso oggi mi è uscita Maggie in versione che va a scuola con la treccina con un profumo un prodotto e le bustine costano tutte 3 euro invece il giornalino in magazine già è passato e l'ho pagato sui 6 euro 5 euro non mi ricordo e poi vi volevo far vedere un'altra cosa da una cartellina ho acquistato queste gommine a forma di libri che praticamente le posso usare anche per fare i libri di scuola delle Barbie molto carini spero che questo mini video vi sia piaciuto se così mettete un bel like e iscrivetevi al canale ciao al prossimo video e poi vi recensirò anche le nuove LOL Surprise ciao